Musica Sicurezza, Vice Ministro Bubbico a Piacenza, lunedì sarà in prefettura per partecipare a una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Gli verrà consegnato un documento sottoscritto e firmato da 45 sindaci della provincia. Domani il Ministro Martina e Teatini per Expo. Rifarei tutto dall'inizio, luogotenente Pietro Santini lascia l'arma dei carabinieri dopo 46 anni di servizio, lavorava al nucleo investigativo, numerosi casi risolti. Zannini si dimette, 1920 parti in un anno, il primario lascia il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Piacenza, bilancio della carriera molto positivo. Musica stasera, Vito Romanazzi e la PPF sono gli ospiti della seconda puntata di Piacenza di Notte in onda alle 20.20 e con Tony Face Baciocchi continua il viaggio nella musica dagli anni 70 ad oggi. Alf Marathon, omaggio a Gaia, la ventesima Maratona Forunicef si avvicina, appuntamento domenica 3 maggio, sfiorati 7.000 partecipanti. diretta su Tele Libertà dalle 9.30 del mattino, aggiornamenti in tempo reale anche su www.liberta.it.